Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 in direzione Firenze, due chilometri di coda per traffico intenso tra Firenze Nord e Firenze e Peritola. In direzione Pisa, un chilometro di coda per incidente tra Peritola e Firenze Nord. Per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est, rallentamenti tra Prato Ovest e Pistoia. Sulla FIPILI, rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori, chiuso lo svincolo di colonna del Grillo e rallentamenti tra Castelnuovo Berardenga e Rapolano in entrambe le direzioni. La viabilità cittadina a Firenze in piazza Ferrucci, restringimento di carreggiata per incidente con rallentamenti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!